Bella a tutti i miei slime qui al bentornati nel mio canale eccoci qui con una nuova rap review e oggi parliamo di Donda di Kanye West si sono perpetente consapevole di averci messo un po' per droppare questo video ma se mi conoscete lo sapete ormai meglio di me mi piace fare le cose per bene di conseguenza non avrei mai potuto droppare questo video dopo il primo ascolto e il secondo a Donda perché un disco di Kanye West ha bisogno di si è ascoltato più volte e adesso che è passato più o meno una settimana credo di aver capito o almeno spero più aspetti possibili dell'album e adesso ne parliamo insieme ma come sempre prima di cominciare se vi piace questo format se vi piace il canale vi invito a supportarmi lasciando un mi piace un commento e se non lo siete iscrivetevi al canale partirei dall'inizio anzi da ancora prima prima che l'album effettivamente droppasse Kanye per sponsorizzare l'uscita di questo prodotto ha fatto dei listening party in totale tre per chi non lo sapesse cosa sono dei listening party essenzialmente dei concerti in cui si ascolta l'album in anteprima il primo di questi si svolge il 22 luglio al mercedes benz stadium ad atlanta dove Kanye West si esibisce vestito completamente di rosso andando avanti e indietro per l'intero stadio suona tutti i pezzi che poi comporranno d'onda e già da qui si sente qualche piccolo difettuccio soprattutto a livello di mix pensate che nei giorni successivi letteralmente si rinchiuderà nello stadio assieme a playboy karti faviforen mike dean e poi magari qualcun altro per cercare appunto di correggere queste piccole imperfezioni il secondo listening party si tiene nello stesso stadio il 5 agosto e l'album oltre a risultare un po più completo generalmente presenta anche qualche versione alternativa delle canzoni come per esempio con harry kane la scenografia questo giro è davvero littissima pensate che alla fine del concerto Kanye West si innalza in cielo e si chiude così lo spettacolo davvero degli effetti scenografici molto fighi il terzo e ultimo evento invece si tiene nella sua città natale chicago il 26 agosto anche a questo giro davvero il concerto è proprio organizzato per bene e pensate che viene replicata la casa dove viveva da piccolo a chicago chiaramente lì all'interno insomma del luogo dove si è tenuto e viene anche celebrato o meglio viene replicato il matrimonio tra lui e kim kardashia tra una canzone e l'altra dopo una serie di ritardi un sacco di date non rispettate l'album appare disponibile sui digital store il 29 agosto esce praticamente a sorpresa perché non era stato annunciato nulla o meglio erano moltissime le date in cui donda sarebbe dovuto uscire ma il 29 agosto non era tra queste e infatti kanye west dopo qualche ora dal drop dell'album ha annunciato sui suoi social che gliel'ha fatto uscire la label senza che lui sapesse nulla non si sa ancora se questa è una cosa vera o meno il nome è chiaramente un tributo a sua madre appunto donda morta nel 2007 ed è una delle figure più importanti sia nella vita che nella carriera di kanye west sono tante le canzoni che le dedica e in generale in cui le parla è una delle più famose coldest winter di 808 and earth breaks quindi si può parlare di concept album assolutamente sì ma non è l'unico tema ricorrente in tutto l'album perché c'è anche la sua ormai fede cristiana che avevamo già avuto modo di ascoltare in jesus is king l'album è formato da ben 27 tracce per la bellezza di un'ora e 48 minuti totale di ascolto io personalmente divido l'album in due parti la prima a inizio con la traccia numero 1 fino alla quattordicesima heaven and hell e da lì in poi secondo me l'album va visto quasi come un jesus is king parte 2 perché ho l'impressione che il tema cristiano prende un po di più il sopravvento nonostante donda la mamma rimane sempre al centro del progetto però sia le sonorità che in generale un po gli argomenti anche per dirvi il coro della chiesa che è presente in più canzoni mi fanno un po pensare questo tra l'altro proprio jesus is king 2 era un progetto annunciato da cani e west qualche anno fa quindi diciamo che la penso un po così ma è una teoria strettamente mia prima di analizzare meglio la tracklist le tracce migliori le peggiori e via dicendo vediamo come effettivamente il progetto è stato accolto dal pubblico vende 520 mila copie first week e per first week viene intesa proprio una settimana effettiva perché come sapete l'album non ha droppato lo stesso giorno in cui di solito droppano i progetti in america però in una settimana complessiva ha totalizzato queste vendite che ragazzi sono tantissime se ci fate caso perché faccio un paragone veloce con un altro colosso del pop o comunque hip hop americano della scena americana in generale the weekend con after hours quest'anno ha venduto la prima settimana e 444 mila copie non essendoci in questo caso nessun singolo pre album io partirei direttamente dalle top 5 tracce che più mi sono piaciute di donda off the grid jail party 2 gianna parte 2 hurricane e moon ve ne aggiungo altri due bonus perché cinque sono troppo poche keep my spirit alive and remote control ma in realtà vi dico la verità mi sono piaciute praticamente tutte le tracce dell'album parliamo un po della prima off the grid troviamo due tra gli artisti che meglio hanno fatto complessivamente in tutto il progetto playboy karty e faviforen le loro strofe mi sono piaciute molto e dico davvero ma a dirla tutta nelle loro rispettive carriere hanno fatto di meglio e questo ci tengo a sottolinearlo perché ho sentito un sacco di gente elevare sia karty e faviforen addio solo dopo l'ascolto di donda quando secondo me ripeto in wallet red karty ha fatto almeno 4 5 strofe migliori di ciò che ha fatto in donda e stesso discorso si può fare un po con faviforen poi chiaramente un mio parere è fantastico vedere come Kanye West a seconda di chi ha davanti cerchi di stendere il miglior tappeto musicale possibile per cercare di far rendere al meglio l'artista in questione è del caso di faviforen in off the grid che quando attacca il beat si fa drill ma mi viene in mente anche lil baby in hurricane credo che questa in generale sia una delle sue migliori abilità ma soprattutto in donda secondo me è un punto chiave dell'album parlando di hurricane a giudicare dagli ascolti è la traccia che è stata più apprezzata del progetto perché ne ha quasi 50 milioni su spotify ma è anche vero che se metti sullo stesso beat tre mostri sacri come lil baby Kanye West e the weekend non può non essere così ancora una volta l'abilità di far coesistere due artisti apparentemente opposti come the weekend e lil baby sulla stessa traccia mi lascia veramente senza parole l'album a tutti gli effetti finisce con no child left behind ma come avrete sicuramente già visto ci sono altre quattro tracce che non vanno viste come effettivamente parti due delle rispettive canzoni ma delle versioni alternative sia gianna 2 che gel 2 sono migliori anche delle versioni originali o almeno questa è la mia impressione perché le vedo un po più complete vorrei fare anche una top 5 flop così come ho fatto anche per gli altri video di questo album ma la verità ragazzi è che non arrivo assolutamente a cinque canzoni perché come vi dicevo prima ho apprezzato davvero tutto il progetto su una cosa credo che però siamo tutti d'accordo tell the vision fa cagare fa veramente schifo non capisco proprio il perché caricare una traccia del genere mixata male già edita e come se non bastasse su spotify è censurata così come tutto l'album e il che la rende ancora più inascoltabile un'altra canzone sicuramente dimenticabile è don da cent ma più che altro perché non è una canzone è l'intro del disco e per l'intera durata viene ripetuta la parola don da sembra quasi una preghiera per come suona il nome viene ripetuto così tanto da farlo sembrare quasi un battito cardiaco e a supporto di questo c'è una teoria c'è chi dice che è stato ripetuto esattamente in quella maniera come metafora degli ultimi battiti cardiaci del cuore di don da prima di morire effettivamente ma vi dico anche che nessuno tuttora ha confermato questa tesi né cani e west né magari qualcuno che fa parte del suo team quindi prendetela con le pinze ma se dovesse essere così diciamo che la traccia acquisisce anche un valore totalmente diverso come sicuramente avrete notato è un album che a me è piaciuto davvero davvero tanto e per certi versi lo ritengo aoti fino adesso per quelli che sono stati chiaramente i miei ascolti è un disco perfetto no neanche questo tolte queste due tracce un po me ce ne sono almeno altre 7 8 che potrebbero durare decisamente di meno e mi viene subito in mente jesus lord di cui gli ultimi due minuti e venti più o meno sono di autroparlata c'è proprio un discorso finale ed è anche interessante per carità ma cani e west detto proprio sinceramente non ce ne fotte proprio un cazzo tolto questo ho anche apprezzato molto il mix dell'album ma tolta vabbè chiaramente tell the vision ci sono anche un paio di punti ma anche forse qualcuno in più proprio in tutta la durata dell'album in cui tale mix non è propriamente perfetto non so se è fatto apposta sono delle disattenzioni ma sicuramente avrei cercato di perfezionare anche questi piccoli aspetti per cercare di rendere il prodotto il più appetibile possibile per quanto riguarda le produzioni non ho davvero nulla di cui lamentarmi è letteralmente un disco di cani e west e da questo punto di vista è curato nei minimi particolari sin da quando schiacciato play ho goduto perché veramente come ha detto anche glasson su instagram le mie orecchie si sono proprio purificate da un sacco di merda ascoltata quest'anno di plastica beat tutti uguali sia in italia che in america e via dicendo anche i fit davvero tutti azzeccati chi più chi meno e anche in questo cani e west è stato davvero bravo in quanti onestamente dopo aver visto la lista di fit hanno già incominciato a sbuffare perché così tanti fit in un disco non promettono mai nulla di buono quasi tutti eppure cani ha trovato il ruolo giusto per ognuno di questi all'interno dell'album e nel caso di molti è riuscito persino a valorizzarli tra quelli che più mi sono piaciuti metto vori west side gun roddy rich e baby kim assieme a quelli che vi ho detto prima a inizio video insomma arriviamo alla parte più attesa del video probabilmente ovvero la valutazione finale per me donda si aggiudica tranquillamente un sette e mezzo per ora per quelli che sono stati mi ascolti e a ot sicuramente non è il peggior disco di cani e west così come non è il migliore ma è davvero un buon disco allo stesso modo però sono davvero curioso di sapere anche quelli che sono i vostri pareri se donda vi è piaciuto o meno quale voto dareste a donda si può considerare a ot davvero scrivetemi tutto qui sotto nei commenti tranquilli la recensione di certify lover boy sta arrivando se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace nel caso in cui non lo foste iscrivetevi al canale se lo siete già attivate la campanellina così non vi perdete ogni video che carico condividete questo qui con quanta più gente volete e potete noi ci vediamo ad un prossimo slat ciao ciao ciao